su quella parola. Quindi andiamo nell'ordine. Vania, Vale e Elisabetta. Vania dice la prima, Vale la seconda, Elisabetta e poi si riparte. Vania. Amministrazione. Amministrazione, Vale, ma anche di fuoco, che non c'entra col diritto. Pioggia. Pioggia c'era l'altra volta. Assisca. Strade. Strade, strade. Preparati Elisabetta mentre chiacchiero. La pubblica amministrazione è quel soggetto giuridico competente a porre in esecuzione le azioni legislative e tutelare l'interesse pubblico attraverso la produzione di servizi, l'erogazione di servizi materiali, di servizi materiali fra cui la produzione di beni, la produzione anche di lavori. Fra questi lavori rientrano senz'altro i lavori di manutenzione delle strade, i lavori pubblici di realizzazione di edifici, i lavori che consistono nell'ampliamento di impianti e di attività, così come la fornitura e i servizi immateriali disciplinati dal codice degli appalti. Questo è il ruolo fondamentale che una pubblica amministrazione che fornisce servizi anagrafici, servizi... Elisabetta, servizi... Biro. Eh? Biro. Che fornisce servizi è deputata a farlo. Fra gli appalti di forniture troviamo gli appalti di forniture di cancelleria perché le pubbliche amministrazioni nonostante la dematerializzazione, quindi il tentativo di produrre sempre più servizi immateriali, continuano a produrre beni e servizi cartacei e quindi hanno bisogno di forniture, ad esempio di evidenziatori, di carta, di Biro. L'acquisizione di questi servizi molto spesso avviene attraverso il servizio economale, cioè servizi di acquisto rapido che non passano da procedure di gara, vania, e quindi il codice dei contratti disciplina anche queste forme di acquisti in economia. Laddove invece non si possono fare acquisti in economia si procede mediante la procedura di affidamento diretto che sotto i 140.000 e sotto i 150.000 euro consente di acquisire questi tipici prodotti, a meno che non siano prodotti soggetti all'obbligo di acquisizione vai-vale-vale mediante le convenzioni CONSIP. In particolare per certe acquisizioni, ad esempio acquisizioni dovute a situazione emergenziale, l'ultima volta è stata durante il periodo Covid, per causa di forza maggiore non si può procedere alle procedure ordinarie e quindi il legislatore prevede delle procedure particolari come la procedura negoziata senza bando che consentono in caso di emergenza e di estrema urgenza di derogare numerose norme del codice dei contratti pubblici, l'abbiamo visto appunto nel periodo emergenziale in caso di alluvioni o in caso di altre calamità. Vai Elisabetta l'ultima e questo è il quadro complessivo. Fra le forniture e i servizi che le amministrazioni devono acquisire per il proprio personale ci sono i servizi di buoni pasto. La maggior parte delle amministrazioni infatti prevede che il pagamento della quota di trattamento stipendiale legato alla permanenza in servizio nell'orario pomeridiano sia assolto non mediante inserimento in busta paga del relativo compenso ma mediante la fornitura di un buono pasto. Il buono pasto può essere utilizzato soltanto per acquisti alimentari ed è tipico l'acquisto durante la pausa pranzo della pizza della tradizione napoletana. Bene abbiamo fatto anche questa cosa qui ma siete un po' intanto non siete state cattive ma avete quattro di diritto invece Elisabetta si è voluta vendicare ma mi vendicono anche io. Professore sono servite le sue lezioni di improvvisazione.